9 anni, buone capacità sceniche ed interpretative, dopo una lunga selezione che l'ha vista competere con tanti altri bambini, fino ad arrivare in 8 alla finalissima di Fiuggi, Noemi Aleo si è piazzata al quarto posto di uno dei festival canori più longevi e importanti d'Italia, dedicato ai nuovi talenti, il Cantagiro, interpretando la canzone Amor Mio di Mina. Ho pensato che questa canzone poteva anche essere dedicata a qualche persona, non solo al proprio fidanzato o sposo. E tu a chi l'hai dedicata? A tutti i miei gruppi familiari. Noemi frequenta la Quinta Elementare e è anche iscritta al Conservatorio di Musica Scontrino dove studia pianoforte, ha già partecipato ad altri concorsi ottenendo buoni piazzamenti e studia a canto con la soprano palermitana Fiorella Bella. Studiamo molte canzoni come Caruso, Il Volo eccetera e mi ci trovo bene. Che cosa ti insegna? Quando per esempio non superi un concorso, che cosa ti dice? Mi dice di non andare bene, di non andare bene, che mi fa studiare altre canzoni molto più belle. Noemi, nonostante i suoi nove anni, ha già le idee chiare sul suo futuro. Il mio genere di più è studiare, però mi piace anche ballare e cantare. Cosa vuoi fare da grande? Che cosa sogni? Beh, una maestra di canto o di più aeroporti, oppure maestra generale di inglese, italiano eccetera. Noemi Aleo, un grande applauso per lei. Regione Sicilia. Regione Sicilia. Regione Sicilia.